Grazie a tutti. A vivere nel divino volere, questo bellissimo e grandioso dono che il Signore ha voluto fare alla sua chiesa per mezzo anzitutto della divina liberazione e di quello che il nostro Signore è venuto a portare sulla terra, ma poi anche con il contributo degli scritti di cielo, come si chiamano dal nome stesso che hanno, della serva di Dio Luisa Piccarreta. Li stiamo leggendo insieme, stiamo nella sezione dedicata all'approfondimento di alcuni aspetti della divina volontà attraverso una serie di testi emblematici, assai significativi, che spiegano bene alcuni tratti salienti e importanti di questo mondo. E oggi, diciamo, il titolo del brano che leggeremo oggi, che è uno degli argomenti fondamentali da focalizzare per comprendere bene che cos'è questo dono di Dio, è appunto la differenza che consiste tra il fare la divina volontà e il vivere nella divina volontà, che non è un problema, come dire, semplicemente di parole o di quisquiglie o di eleganze stilistiche insieme, insomma, oppure di altro. C'è una differenza, come vedremo, sostanziale, ecco, per certi aspetti, non dico abissale, ecco, ma quasi, ecco. Sarà Gesù stesso anche a spiegare bene la differenza, con parole molto molto semplici, tra queste due distinte modalità di stare in contatto con la divina volontà. Io non mi dilungherei troppo, ma partirei immediatamente dalla lettura del testo, che se poi dovessimo fare presto anche a commentarlo, procederemo ancora ulteriormente, perché sono ancora diversi i testi significativi, ecco, da leggere in questa sezione di questo ciclo di catechesi. E quindi passerei rapidamente alla lettura, poi ci penseremo un pochino e la commenteremo un po'. 18 settembre 1924, il volume è il 17. Stavo impensierita di ciò che sta scritto sul vivere nel divinvolere, e pregavo Gesù che mi desse più luce per spiegarmi meglio onde poter chiarire a chi sia un obbligo di farlo, questo benedetto vivere nella divina volontà. Come sempre faccio una piccola, qualche piccola glossa mano a mano che leggo. Luisa stessa chiede al Signore la luce, ecco, perché vi ricordo sempre le considerazioni che io stesso fece all'inizio di queste catechesi e che io stesso mi trovai a fare, come ormai chi segue questo ciclo di catechesi sa, la prima volta che entra in contatto con gli iscritti di Luisa. La divina volontà è sicuramente una cosa buona, ma è la scoperta dell'acqua calda, quindi che cosa sarà mai? Tutti sappiamo che se uno vuole diventare santo deve fare la volontà di Dio, quindi che sarà mai? E siccome c'è un che sarà mai, qui Luisa dice dammi luce per potermi spiegare meglio, e quindi far comprendere la differenza che c'è tra quello che è sempre stato fatto e che sempre sarà fatto nella Chiesa, è uguale se non lo si facesse, quindi cercare di fare la volontà di Dio, e però questo di più, che è un di più non nel senso di cosa altra, ma nel senso di sviluppo ulteriore di ciò che già è contenuto nella rivelazione, e che viene semplicemente appunto focalizzato e ben specificato. Il mio dolce Gesù mi ha detto Figlia mia, non si vuol capire. Qui attenzione perché Gesù fa una serie di affermazioni apodittiche che poi andranno certamente ben spiegate, no? E comincia. Il vivere nella mia volontà è regnare. Il fare la mia volontà è stare ai miei ordini. Il primo è possedere. Il secondo è ricevere i miei ordini ed eseguirli. Il vivere nel mio volere è far sua la mia volontà come cosa propria e disporre di essa. Il fare la mia volontà è tenerla in conto come volontà di Dio, non come cosa propria, né poter disporre di essa come si vuole. Il vivere nella mia volontà è vivere con una sola volontà, quale è quella di Dio, la quale, essendo una volontà tutta santa, tutta pura, tutta pace, ed essendo una sola volontà che regna, non ci sono contrasti. Tutto è pace. Le passioni umane tremano innanzi a questa suprema volontà e vorrebbero fuggirla, né ardiscono di muoversi, né di opporsi, vedendo che innanzi a questa santa volontà tremano cielo e terra. sicché il primo passo del vivere nel voler divino che fa, e questo è un importante criterio di discernimento, poi arrivo, chiudo questa pericope e poi torniamo con il commento, che fa? Gettare l'ordine divino nel fondo dell'anima, svuotarla di ciò che è umano, di tendenze, di passioni, di inclinazioni, ed altro. Invece il fare la mia volontà è vivere con due volontà. E quando do gli ordini di eseguire la mia, la creatura sente il peso della sua volontà che ne mette contrasti. E adonta che segua gli ordini della mia volontà con fedeltà, sente il peso della natura ribelle, le sue passioni di inclinazione. E quanti santi adonta che siano giunti alla perfezione più alta, sentono questa loro volontà che gli fa guerra, che li tiene oppressi, e tanti che sono costretti a gridare, virgolette, perché questo è San Paolo, una citazione, chi mi libererà da questo corpo di morte? Cioè da questa mia volontà, che vuol dare morte al bene che voglio fare? Ecco, qui sinceramente il commento solo di questa pericope, vedo che lo scritto è ancora abbastanza lungo, cioè richiederebbe un ciclo di catechesi a parte, per cui ogni frase di queste che dice Gesù pesano una tonnellata. Anche qui, la comprensione di esse, come diceva sempre Santa Teresa a proposito delle esperienze profonde della vita interiore, se non si è cominciato un pochino a vivere, io lo ritengo che sia un pochino difficile, ecco, quindi, però, almeno da un punto di vista teorico, cercherò, insomma, con qualche piccolo commento, di aiutare, ecco, la comprensione. Allora, numero uno, Gesù comincia subito, il vivere nella mia volontà è regnare, il fare, la mia volontà è stare ai miei voti. Evidentissimo. Cioè, quando ci si spoglia completamente di tutto, e questa spogliazione avviene proprio nel momento in cui si chiama la divina volontà, veramente a vivere in noi, non a parole né con la lingua, si sperimenta questa grandissima libertà, lo vedremo poi anche nel termine che Gesù usa, dei figli di Dio, cioè, ha fatto di noi un regno, i sacerdoti, per il suo nome, si legge nel Nuovo Testamento, e, anche in forza del battesimo, insegna Santa Madre Chiesa, noi siamo sacerdoti, re e profeti. Quindi, regnare significa, come dire, percepire, vediamo se riesco a spiegarmi, quel senso di sovranità assoluta, perché divina, che è la divina volontà su tutte le cose. Quindi, come dire, è un'onda, entro cui, ci si adagia, e in cui ci si fa portare, quindi, ripeto, non c'è, dice, stare, fare la mia volontà, è stare ai miei ordini, quindi, capite, non ci sono ordini, d'accordo, cioè, Gesù spiega qui molto bene, no? Dice, sì, chi vuole fare la mia volontà, sì, ci mette tutta la buona volontà di questo mondo, per carità, è un'operazione molto meditoria, però, orde il freno, nel senso che vorrebbe fare un'altra cosa, però non si può fare, questa non è volontà di Dio, ecco, quindi, è abbastanza, come dire, intuitivo come fenomeno, no? Allora, tanto per far capire, cioè, poi Gesù spiega, no? Qual è una spia, d'accordo, che siamo passati dal fare la volontà di Dio, all'essere nella volontà di Dio, allora, che dentro di te, avverti quella cosa, quella cosa particolare che Gesù ha detto alla fine delle prime affermazioni categoriche, cioè, c'è l'ordine divino nel fondo dell'anima, e avviene uno svuotamento di ciò che è umano, di tendenze, di passioni, di inclinazioni, ed altro. questo o c'è o non c'è, non è che si può dire, o ci si può, come dire, contare storie, o c'è o non c'è, allora, un ordine divino nel fondo dell'anima, la vita comincia a essere ordinata sotto tutti i punti di vista, e questo va verificato in concreto, adesso comincio subito a fare un pochino di esempi, che poi le persone possono, il lavoro, che c'entra il lavoro, c'entra, c'entra come il lavoro, chi vive nella divina volontà, e basti guardare, leggere la vita di San Giuseppe, di Suorce Ciliabai, per esempio, la vita interna di Gesù Cristo, di Suorce Ciliabai, per un altro esempio, per chi li ritiene attendibili, io personalmente li ritengo attendibili, gli iscritti di Maria Valtorta, che fanno vedere degli spaccati, per esempio, della vita nascosta di Gesù a Nazareth. Allora, come lavoravano Gesù e Giuseppe, dentro il laboratorio? Lavoravano sodo, d'accordo? Ma lavoravano in maniera divina. Cosa vuol dire lavorare in maniera divina? Vuol dire, quando io sto a lavorare, non solo faccio la presenza di Dio, lo offro a Dio, ma proprio nella modalità di lavorare, procedo in modo divino. Cioè, tu entravi nel laboratorio di San Giuseppe, di Gesù, era tutto perfettamente in ordine, era tutto perfettamente pulito. È chiaro che per lavorare, dovevi prendere la sega, dovevi prendere la pialla, dovevi prendere il martello, per fare i lavori, no? Però, se tu entravi nel laboratorio di Gesù e di Giuseppe, mentre stavano lavorando, non trovavi una montagna di attrezzi in giro, e che quando uno poi deve prendere il martello, non sa do andarla a cercare, perché non si ricorda dove l'ha messo. No! D'accordo? Perché si manteneva l'ordine, anche mentre si stava lavorando. Quindi è chiaro che io uso un attrezzo, mi serve di segare un pezzo di legno, io adesso non lo faccio al faregnano, ma immagino, in base ai resoconti che ho letto in questi libri, no? Finito di usare la sega, torno indietro e la metto a posto, e prendo l'altro attrezzo che mi serve. Tu dici, eh, ma queste sono stupidaggini. No! E no! Non lo sono! Così come lavorare sodo non vuol dire lavorare con frenesia, con fretta, d'accordo? Questo non è lavorare nella divina volontà. Così come quando stai a lavorare, non è come fanno che tu stai a lavorare e poi dopo cinque minuti te stanchi, fai la pausa, te fumi una sigaretta, immaginate, non so se sa Giuseppe di fumare una sigaretta, insomma, durante le pause di lavoro, no? E' proprio di no! Ecco, allora, non voglio, cioè, io chiedo perdono, insomma, se, però non dobbiamo pensare a queste cose come realtà disincarnate, capite? Cioè, la divina della volontà getta l'ordine divino nel fondo dell'anima, chi lo sa che se pensa? Questo se pensa. Perché, se tu, come dire, stai in quest'ordine divino, tu diventi refrattario al disordine, dentro la camera tua, se c'è un maglione buttato sul divano, ti alzi o lo metti a posto, ma no perché uno è esaurito, perché questo è pure malattie psichiche, sapete che sono delle forme di malattie psichiatriche, di quelli che devono essere tutto quanto in ordine, preciso, così e quella, quelli che sono da ricopero, non stanno nella divina volontà, però, chi sta nella divina volontà, un maglione buttato sul divano, non ce lo lascia, ma non è che non ce lo lascia, ecco la differenza, attenzione, perché dice, allora, secondo me, a Dio non vuole che noi siamo disordinati, quindi c'è il maglione sul divano, quindi, non mi va mai niente, ma mi tocca a mente l'apposto, perché è una cosa più gradita al Signore, questo è fare la divina volontà, se tu invece stai nella divina volontà, vedi quel maglione, con calma, brutto sto coso, mettiamo a posto, capito, cioè, sembra niente, ma è tutto, è tutto, non te pesa, ecco, cioè, non ti pesano neanche, queste sono sciocchezze, neanche troppo, ma non ti pesano neanche le cose più serie, se tu capisci che stai nella divina volontà, d'accordo, facciamo un altro esempio, così, adesso andiamo a suguriare un po' di cose, una famiglia cristiana, che si apre alla vita, i figli che nascono e che vengono, che sono incubo, oppure una cosa tranquilla, e viene un altro figlio, e benvenuto, tranquillo, e c'è stata lavorata, e lavoriamo, e non dormiamo la notte, e non dormiamo, cioè, ti dici, come si fa? Eh, si fa, perché se tu vivi questa cosa, capite, anche qui, come, allora, dunque, ci mettiamo seduti, Dio vuole che le famiglie siano aperte alla vita, tutto vero questo qui, eh, quindi la contraccezione non si può usare, perché, abbiamo letto bene un'umane vite, abbiamo fatto il catechismo per gli adulti, sappiamo che l'elemento procreativo non si può scendere da quello unitivo, quindi questo non si può fare, quindi purtroppo, quando dobbiamo stare insieme, dobbiamo pagare la tassa, che forse, rimaniamo incinta e arriva un bambino, già questo è l'incubo, d'accordo? Perché te lo manda mezzo per storto, allora comincia a pensare, ma forse, sai, i metodi naturali, a destra e a sinistra, sì, tutto, poi lascia un figlio, è nato un figlio, ah, bene, adesso Dio ci chiede quest'altro sacrificio, quindi, rimbocchiamoci le mani, e portiamo avanti sta gravianza, e poi porturiamo, e poi, il bambino è piccolo, la notte piagna, non mi fa dormire, bisogna tagliare i pappetti, e mettergli i pannolini, e fagli questo, e poi, e non ce la faccio più, e ora viene un altro, no, abbiamo fatto questo, per carità, facciamo passare un po' di tempo, cioè, non si può campare così, cioè, per carità, si può campare così, d'accordo, perché comunque, se uno supera tutte queste difficoltà, e comunque fa quello che Dio vuole, merita, alla santità ci arriva, ma non è una cosa bella, entusiasmante, è una cosa pesante, ecco, allora, vedremo che, la seconda, la seconda parte di questo scritto, comincia con questa espressione, che la metto come overture, no, il vivere è la mia volontà, vivere da figlio, il fare, la mia volontà, attenzione, vivere da servo, allora, gli ascoltatori sono tutti quanti già santi, e conoscono bene il Vangelo, queste due parole, figlio e servo, chi ci fa venire in mente, c'è un Vangelo famosissimo, sul figlio e sul servo, su quello che, serve, serve il Signore, ma sempre con l'occhi alzati al cielo, come se le stesse a fa in favore, e invece un figlio, ci ricorda qualcosa la parabola del figlio al prodigo? quando torna il figlio minore, il padre lo accoglie come figlio, attenzione che quell'altro, era già figlio, ma pur essendo figlio, viveva come un servo, e lo dice da quello che poi, dalla sua rabbia, dice, ma, questo è andato a fare soldi, tra prostitute e cose, e tu ritorna, e gli mi dai pure la carta di credito, gli rimetti l'anello al dito, così, te ne frega un altro po' di soldi, e io invece, che sono stato qui, a servirti tutti i giorni, attenzione al termine, servirti, per carità, noi siamo servi del Signore, ma per uno che vive nella Divina Volontà, ma servire è il più grande onore, che possa succedere, l'omediaca che ha fatto il Papa, quando è stato il 19, che era ieri, all'ordinazione episcopale dei Vescovi, mi hanno detto, il Vescovo è un servo, ma per noi, essere servi è un onore, cioè, è un onore, per noi essere principi è un problema, essere servi è un onore, d'accordo, perché è un servizio gioioso, figliato, non pesante, assunto volontariamente, liberamente, come una cosa bella, allora, capite, no? come succede questa cosa? Voi capite che il figlio, è come dire, mostro di una tautologia, si dice con una parolaccia, tratta dalle figure retoriche, il figlio è figlio, è figlio del padre, cioè, è carne della sua carne, è ossa delle sue osse, è sangue del suo sangue, il servo è un estraneo, che è stato assunto come dipendente, capito? se io curo gli affari di mio padre, mi curo gli affari miei in realtà, perché è roba mia, allora, nel vivere nella divina volontà, queste due volontà, che è questo il ripristino della condizione che c'era nell'Eden, cioè, che la divina volontà forma una cosa sola con la nostra, e si agisce in simbiosi, non in opposizione, che attraverso lo sforzo, io cerco in qualche modo di colmare, ma questo mi causa un sacco di cose, perché è troppo difficile, capito? Ecco perché poi, se uno entra in questo orizzonte, non è che si diventa santi a buon mercato, perché non lo facciamo mai, però, non è che diventa facile, ma diventa semplice, non è troppo facile, però è semplice, e ci si abitua, insomma, a una piccolissima cosa, cioè, veramente, io prego notte e giorno, io stamattina non ho vista un'altra, cioè, che è una stupida, ma le piccolissime cose, d'accordo? Davanti al garage, io dovevo uscire, dovevo andare a fare una cosa urgente, c'era un appuntamento, mi mette a posto le ginocchia, c'era una macchina parcheggiata, e non mi ha fatto uscire, per n'è cercato, stava questo, sono passato, davanti ad un, alle poste, dove dovevo fare un'operazione, uno di questi giorni alle poste, veloce, ma che devo fare per forza le poste, au, davanti alle poste non c'era nessuno, c'era l'inserviente sulla porta, e dico, senti poi dove la st'operazione, ma la posso fare online, devo venire qua, ma no, vieni qua, dice, quanto tempo ci vuole? 30 secondi, entro, non c'era nessuno, faccio l'operazione, 30 secondi, nel frattempo, quello che doveva prendere la macchina è tornato, mi ha tolto la macchina da davanti, sono nato, ho fatto tutto, ho fatto il perfetto orario, il perfetto tempo, senza nessun problema, tu dice, è una stupidaggine, no, perché io negli altri tempi, dico, uno mesemente con la macchina davanti al garage, con scritto davanti grosso così, di pietro di sosta, anche di notte, e io devo uscire, perché non è che devo andare a dietro, ho da farmi una visita medica, una terapia, uno se altera quantomeno, se nervosisce, dice, ma guarda questo, ma che non lo sa, cioè, ho messo il cartello, invece se il signore ti aiuta, tu capisci, sta macchina che sta qua davanti, è divina volontà, in questo momento il signore mi chiede il sacrificio, di, punto primo, sopportare con pazienza questo piccolo inconveniente, punto secondo, di sto tempo che perderò, che ci facciamo? La divina volontà ce l'ha già pronto, la divina volontà ce l'ha già pronto, adesso che ci sto facendo attenzione, ci potrei scrivere un'enciclopedia, tutti i giorni, quasi tutti i giorni che avviano cose del genere, quasi tutti i saurosanti il giorno, capite? Gli incastri, le cose, cioè, è incredibile, e non si tratta di cose, non è che sono cose eclatanti, che sono cose da, come dire, da grande santo, grandi sacrifici, non lo so, grandi atti di virtù, sono cose terra-terra, cioè la divina volontà sta in queste cose terra-terra, siamo noi che non ci, che non, che non, che non ci capiamo, è così, allora, facendo questo esempio, tu vedi quella cosa, ti vengono i cinque minuti, no, non ti fa venire i cinque minuti, perché sennò fai il peccato di ira, Dio non vuole che ti arrabbi, state calmo, e tu comincia, stiamo calmi, stiamo calmi, stiamo calmi, e cominci a fare così, calmo, non ci riesci a dominare la passione dell'ira, che tengono i cinque minuti, se tu stai nella linea volontà, fai la stessa cosa, ma viene tutto in maniera soft, suave, delicata, via, calmo, che sta succede, con me che è successo questa cosa, dice, e se c'è un appuntamento che arrivi in quarto d'ora di ritardo, arriverai in quarto d'ora di ritardo, è colpa tua, dipende dalla tua negligenza, no, quindi vuol dire che la divina volontà, è che tu sopporti la mortificazione, che arrivi in quarto d'ora di ritardo appuntamento, uno pensa che sei un capone, perché hai fatto tardi, invece non hai fatto niente, perché questo non è di peso dalla tua volontà, finito, c'è qualcuno che dinanzi a una prospettiva di vita di questo genere, non dice, ma magari che fosse, punto interrogativo, io penso che sia normale, auspicare, ma magari che fosse, allora, capite no, quindi nella divina volontà si realizza, ecco perché si parla della fusione, è così importante l'atto di fusione, tu quando fondi due metalli preziosi, d'accordo, oppure mettiamo due anelli d'oro, li fondi e poi ne fai uno solo, è chiaro che c'è l'oro del primo anello, e l'oro del secondo anello, ma nell'anello nuovo non si distinguono più, ecco perché si dice l'atto di fusione, perché non è semplicemente l'atto di obbedienza, d'accordo, quindi tu rimani lì, io rimango qui e cerco, facendo il possibile di adeguarmi, no, andiamo così, è chiaro che questo è un processo, non dobbiamo immaginare questo come una cosa definitiva, questo è un processo in continua costruzione, ecco perché durante la giornata dobbiamo fargli gli atti di fusione, piccoli o grandi, perché questo è una cosa che cresce di giorno in giorno, che si realizza gradualmente come abbiamo visto, non di botto dall'oggi al domani, ecco, però, cioè questo è assicurazione, d'accordo, chi questo desidera e chi su questo si muove, chi su questo si adopera, sicuramente comincia a fare dei passi, senza nessun dubbio, perché non c'è niente che Dio voglia di più, questo ne siamo sicuri dagli iscritti, che non che la sua divina volontà regni come in cielo e così in terra, questo è proprio sicurissimo, d'accordo, sicurissimo, cioè più che desiderio nostro, questo desiderio di Dio, cioè capite, perché Dio vuole che noi viviamo in questo modo, non da servi, cioè non da chi sta agli ordini, ma da chi comanda, il via della mia volontà è regnare, il via della mia volontà è possedere, cosa? Le stesse ricchezze di Dio, a differenza di chi, come dire, riceve gli ordini e li esegue, come se fosse un soldato, il soldato non è, il padrone, è soldato, il vivere nel mio volere è fare, sua, la mia volontà, come cosa propria, cioè, io non, qual è un'espressione tipica, del via di Dio, io voglio quello che tu vuoi, cioè la mia volontà non esiste, la mia personale volontà, la volontà di Leonardo Maria Pompei, non deve esistere, cioè, io voglio quello che tu vuoi, ma questo, attenzione, senza nessuna restrizione, nemmeno mentale, ecco perché, in qualche altra catechesi, ho raccomandato, l'esercizio, di mettersi davanti a Gesù, esercizio, a mio avviso, oltremodo salutare, tu pensa le cose che meno vorresti vivere, meno vorresti fare nella vita terrena, proprio quelle che proprio, speriamo che succeda tutto, meno che questo, bene, quella è la prima cosa che devi dire, se questo vuoi, lo voglio pure io, lo voglio pure io, se no, stiamo sempre al di qua, è chiaro che uno, fino a quando, io non lo so, se nella perfezione del regno, della divina volontà, rimangono queste cose, no, come dire, se uno potrebbe pure di, se questo se potesse evitare, non è che mi dispiacerebbe tanto, però, al massimo, in questa forma, non tutto meno che questo, questo non me lo puoi chiedere, questo non, 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 non lo puoi volere, perché, cioè perché, perché per carità, è evidentissimo che siamo liberissimi, di fare come meglio crediamo, teniamo sempre presente, che Dio, c'è un sacro santo, e sovramo rispetto, della nostra libertà, non forza nessuno, queste cose non sono obbligatorie per nessuno, questa è una vita, che se uno vuole, la percorre, e se non vuole, non la percorre, d'accordo, non la percorre, non è indispensabile, per raggiungere la salvezza dell'anima, d'accordo, per raggiungere la salvezza dell'anima, bisogna osservare dieci comandamenti, questo sì, d'accordo, questo sì, i precetti della chiesa, questo sì, e basta, quindi, capite, una sola volontà, non due, e vedete, quando è una sola volontà che regna, non ci sono contrasti, tutto è pace, cioè, non si litiga col, col, col Padre Eterno, non si discute con il Padre Eterno, ma non perché uno non ci avrebbe motivi per farlo, d'accordo, ma perché sa benissimo, che la nostra, povera, mente, limitata e ristretta, non ci arriva alla sapienza divina, e quindi, semplicemente, si abbandona, rinunciando a voler capire, cioè, c'è qualcosa da capire, bene, capiremo quello che Dio vuole che io capisca, c'è qualcosa da imparare, bene, imparerò quello che Dio vuole che io impari, che io impari, dice, le passioni umane, tremano innanzi a questa suprema volontà, vorrebbero fuggirla, né ardiscono di muoversi, né di opporsi, quindi, se le nostre passioni sono ancora molto agitate, le passioni che danno luogo ai vizi capitali, quindi, la superbia, la parizia, la russuria, l'ira, l'invidia, l'accidia, la gola, se sono vive, ancora siamo lontani dal vivere nella divina volontà, punto, punto, qui non si tratta di farsene una colpa, cioè, il problema prioritario non è stabilire se c'è colpa o non c'è colpa, ma queste sono spie, perché se la divina volontà è entrato in te, le passioni, i vizi, carano, 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 noi dobbiamo sempre, io vedo anche quando qualche persona, che liberamente mi chiede qualche parere, o mi chiede aiuto, perché da un pezzo che io ho, abdicato, insomma, al mettermi a fare da maestro, alle singole persone, perché poi ognuno deve imparare a fare le proprie scelte per sé, cioè, dico, guarda, non sta a questo, tu chiedi sempre, che vuoi far di fondo, perché se uno vuole questo, è un discorso, d'accordo, è un discorso, e tutto prende, come dire, senso, significato, orientamento, e valore da questo, ecco perché, come vedremo, se c'è una caratteristica, a mio avviso, della vita nella divina volontà, è che è, questo sì, per chi vuole entrarci, è totalizzante, cioè, prende tutta la vita, prende tutti gli istanti, prende tutte le realtà che noi diamo, coinvolge ogni minima cosa, capite, non si tratta qui di andare, voi sapete che è una forma, molto, molto, imperfetta, del vivere la fede, e diciamo più in generale, la cosiddetta religione, è quella delle anime che dicono, cioè sì, bene, io adesso vado in chiesa, facendo la candela, d'accordo, faccio la mia preghierina, poi la domenica ogni tanto, quando mi ricordo, vado pure a messa, poi c'è la processione di San Giuseppe, per carità, nella processione del santo, del padrono, ci vado, quindi, cioè, si aprono, in questa forma molto embrionale, dell'uomo religioso, si aprono delle finestrelle, cioè la vita, scorre, ogni tanto, apriamo, il file, cose sacre, gli dedichiamo un po' di spazio, gli dedichiamo un po' di tempo, basta però, adesso è un po' troppo, se no, dopo mi viene l'allergia, e non si può, quindi, si apre la porticina, si chiude la porticina, questa non è la vita, questa non è neanche la vita cristiana, ma, nella vita, nella vita di una volontà, c'è un, totus, d'accordo, per questo che, anche nella consagrazione, monfortana, si dice, totus, tuus, ecco, che anche questo non si fa a cuor leggero, perché totus è totus, non è, ma, 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 totus, d'accordo, cioè, quindi, 80%, no, è totus, non c'è 80 o 90, è totus, totus, allora, riprendo un po', la lettura, il vivere è la mia volontà, è vivere da figlio, abbiamo visto, il fare è la mia volontà, è vivere da sera, nel primo, ciò che è del padre, è del figlio, qui sono le parole del padre, no, del padre rivolte al figlio maggiore, quando gli dice, ah, è tornato sto disgraziato, e tu gli hai pazza pure il pitello grasso, a sto, a questo qua, bella roba, e a me mai manco un capretto, che fa festa con gli amici, ah, che bello, che gli risponde il padre, dice, figlio, tu sei sempre come tutto quello che è mio è tuo, sei tu che non lo stai vivendo così, vedete, nel primo, ciò che è del padre è del figlio, nello scritto, la Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà, sapete quante volte si legge che, vivere nella Divina Volontà, vuol dire diventare onnipotenti, nell'onnipotente, uno legge quella cosa, se mo diventa onnipotente, nell'onnipotente, ba, boom, boom, ma vuol dire, diventare onnipotenti, nell'onnipotente, ma questo ci stupisce, quando Gesù, nel Vangelo di San Giovanni, ha detto, chi crede in me, compirà le opere, che io compio, e insomma, Gesù forse un po' onnipotente c'era, e ne farà di più grandi, perché io vado al padre, sta scritto nel Vangelo di San Giovanni, potete andare tranquillamente, a cercare la, la citazione, questa è una frase, tolta dal discorso di addio, fatto da Gesù, che dura, molti lunghi capitoli, dal 13 al 17, nel Vangelo di San Giovanni, dalla lavanda dei piedi in poi, quindi nel primo ciò che è il padre e il figlio, e molte volte, fanno, più sacrifici, i servi, che i figli, allora aspetta, allora aspetta esporsi i servizi più faticosi, più umidi, al freddo, al caldo, al viaggiare a piedi, infatti, quanto, non hanno fatto i miei santi, per eseguire gli ordini della mia volontà, grandi cose, grandi opere, grandi eroismi, grandi ammazzate, in certe circostanze, invece, guarda un po', il figlio sta con suo padre, tiene cura di lui, loro allegra con i suoi baci e con le sue carezze, comanda i servi, come se comandasse suo padre, e se esce, non va a piedi, ma viaggia in carrozza, questo, stiamo nel 1924, che mi madre mi racconta, che mio nonno, aveva un bellissimo cavalluccio, con un bel calesse, ecco, che allora, insomma, negli anni 20, gira a Roma in carrozza, se giravano tutti, insomma, no? Mo' oggi che facciamo? Se esce, non va a piedi, ma viaggia in aereo, su fleccia rossa, non lo so, dove viaggia? Che direbbe oggi Gesù? attenzione poi anche qui, il figlio sta con il padre, sta con il padre, qual è la cosa che fanno di più i figli nella divina volontà? Stanno con Gesù, e che fanno? E che faceva Luisa quando stava con Gesù? Basta leggere gli scritti, abbracci, baci, coccole, atti d'amore, c'è molta gente che si scandalizza, io ho parlato con il sacerdote, insomma, dice, ma sai la prima volta che ho letto le ore della passione, cominciamo subito dalla prima ora, comincia, io e te bacio del qua, te bacio del là, te bacio del destra, te bacio del destra, ma che è sta roba? Qualcuno questo qui lo pensa, ma è il figlio che sta con il suo padre, tiene cura di lui, lo rallegra con i suoi baci e con le sue carezze, e comanda i servi come se comandasse il suo padre, e se esce non va a piedi, ma in carrozza, e se il figlio possiede tutto ciò che è del padre, ai servi non si dà altro che la marcellata del lavoro che hanno fatto, si pagano, e poi restano liberi di servire o non servire il loro padrone, te piace, se non te licenzi, te do il trattamento, il fine rapporto e il fine del discorso, e se non servono, non hanno più il diritto di ricevere nessun altro compenso, invece tra padre e figlio, nessuno può togliere questi diritti, perché il figlio possiede bene del padre, nessuna legge né celeste né terrestre può togliere questi diritti, né svincolare la figlioranza tra padre e figlio, voi sapete, io ho spiegato la legge, se uno ha un figlio, c'è la successione legittima, c'è la quota di legittima, che non la può toccare nessuno, cioè se il padre, la diseredazione, e anche nel diritto civile oggi non esiste, cioè se il mio padre ha dei beni, quei beni sono i miei, fino a quando sta vivo, potrebbe dimitarmi nell'uso, padronissimo, ma se moro quei beni sono i miei, perché sono di mio padre, io sono figlio, non sono estraneo, allora prosegue Gesù, figlia mia, e questa è un'altra di quelle frasi che dovremmo registrare, meditare spesso, il vivere nella mia volontà, è il vivere, che più si avvicina ai beati del cielo, i beati del cielo, una vita felice, significa, felice non vuol dire, perché siamo ancora nel fiat redimente, senza groci, senza sofferenze, senza prove, senza tribolazioni, questo te lo scordi, anzi, anzi, d'accordo, anzi, ricordiamo sempre che Luisa, molto prima di diventare, figlia di involere, è stata scelta da Gesù, per essere la sua vittima, e vittima abbastanza forte, insomma, è stata per anni e anni, per lustri, rigida dentro il letto, non se desirrigidiva, se non veniva al sacerdote, a farla svegliare, e poi tra crocifissioni, in coronazione di spin, di tutto, di più, insomma, una vita completamente mortificata, raccolta, ritirata, non usciva mai, non sapeva mai che colore c'è al sole, tempra di chiusa, dentro quattro mura, insomma, altro che le sole di clausura, le sole di clausura, almeno se ne passeggiano per il monastero, hanno il chiostro dentro, hanno l'orto, quando fanno ricreazione, vanno a giocare a palla, anche le più sante, lo assicuro, le conosco io, è una cosa buona, insomma, che la facciano, lei stava sempre in chiusa dentro quattro mura, stava peggio di una claustrata, no? Per dire, quindi, però, è la vita che più si avvicina ai beati del cielo, ed è tanto distante, da chi semplicemente fa la mia volontà, e guardate che fare la volontà di Dio, è già una cosa grandissima, che magari tutti la facessero, ne aveva quasi nessuno, ed è tanto distante, da chi semplicemente fa la mia volontà, e sta fedelmente ai miei ordini, quanto è distante il cielo dalla terra, quanta distanza passa tra figlio e servo, tra re e suddito, parole di Gesù, sono parole di Gesù, e poi questo è un dono che voglio fare in questi tempi così tristi, che non solo facciano la mia volontà, ma la posseggano, altro termine tecnico, possederla come cosa propria, non sono forse io padrone di dare ciò che voglio, quando voglio, a chi voglio, non è padrone un signore di dire a un servo, vivi, vivi in casa mia, mangia, prendi, comanda come un altro me stesso, e per fare che nessuno possa impedire il possesso dei suoi beni, si legittima questo servo per figlio, e gli dà il diritto di possedere, se ciò può fare un ricco, molto più posso farlo io, adesso attenzione, questa è un'altra frase da incorniciarsi, questo vivere nel mio volere, è il dono più grande, che voglio fare alle creature, lo dice Gesù, il dono più grande, non è che diventi, papa, vescovo, prete, cardinale, che ne so, che diventi ricco, tutto quello che ti pare, d'accordo? Non è quello, il dono più grande, neanche che vedi la Madonna, neanche che vedi Gesù Cristo, non è quello il dono più grande, è il vivere nel mio volere, la mia bontà vuole sempre più sfoggiare, in amore verso le creature, ed avendole dato loro tutto, ne avendo più che dar loro per farmi amare, voglio far dono della mia volontà, affinché possedendo, ecco un termine tecnico, un altro termine tecnico, che è il possedere la divina volontà, amino il gran bene che possedono. C'è un'altra spia, mi avviso, io specifico sempre, quando sono considerazioni personali, no? Si comincia veramente a vivere nel divino volere, quando uno, appena sente dire divina volontà, capisce più niente, hai visto, non si dice, eh, sono, su, di una volontà, pum, non capisco più niente, cioè, appena capisco che una cosa è, via, subito, stai venuto a stante, non si capisce più niente, perché si comprende il grandissimo bene, che da questo viene, amino il gran bene che possedono, quindi la divina volontà che diventa nostra, come dire, compagna, di vita, istruttrice continua, maestra interrotta, non ti meravigliare se vedi che non capiscono, attenzione a qui, e questo, ecco qui veramente, ragazzi, amo sta fine a Natale, a fare il commento, con tutti quanti gli esempi che si potrebbero fare, per capire, attenti a quello che dice qui Gesù, dovrebbero disporsi al più grande dei sacrifici, che l'unico che l'ha fatto sempre in maniera perfetta, è stata la Madonna, al di fuori di Gesù, qual è quello? di non dar vita, anche nelle cose sante, alla propria volontà, anche nelle cose sante, e quando Dio vuole educare l'anima, questo lo fa, cioè, un figlio del divino vuole deve capire che ci sia soltanto una cosa che è assoluta, una, la divina volontà, per cui, ah ma io ogni giorno faccio due ore di adorazione eucaristica, se Dio oggi vuole che tu le faccia, perché se la divina volontà oggi non vuole che tu stia due ore davanti al Santissimo Sacramento, per tante motivazioni, tu non ci stai, e non succede niente che cominci a sclerare, ma io devo stare davanti al Santissimo Sacramento, ah non campo se non sto davanti al Santissimo Sacramento, ah devo andare assolutamente dopo, no, non devi fare niente, è arrivata a messa tutti i giorni, ah no, a messa tutti i giorni, non si tocca, mio marito fa il matto, c'è questo, c'è quell'altro, io a messa tutti i giorni, non si tocca, allora io sto chiaramente, facendo un po' di provocazioni, non è che non bisogna andare a messa tutti i giorni, o non bisogna stare davanti al Santissimo Sacramento, beata a chi lo fa due ore al giorno, ma, anche nelle cose più sante, bisogna stare ai divini voleri, a me a quaresima sto a fare tutti questi fioretti, questi sacrifici, guai a chi li tocca, io sono il primo a dire che i sacrifici vanno fatti bene durante la quaresima, vanno portati fino a Pasqua, ma non è che sono io, lo dicono i maestri di spirito, che cerco di conoscere, e di osservare, perché io non conto a niente, quello che dico io, conto a quello che hanno detto i santi, i papi, il magistrato della chiesa, non quello che dico io, però anche qui tensione, perché se capita, una circostanza, dove è evidente, che l'osservanza di un sacrificio comporterebbe troppi problemi, problemi inutili, tensioni non necessarie, cose di questo genere, bisogna avere la duttilità mentale per capire, che in quel momento, il sacrificio, è rinunciare al sacrificio, cioè non è fare quel sacrificio, ma è rinunciare alla volontà, pur buona, che tu ci hai messo di farlo, allora quando Dio deve prepararsi un'anima, a questo, guardate che, ricordatevi, distrugge tutto, non c'è nessun problema, cioè, ti piace andare a messa tutti i giorni, ti fa fare in modo che non ce l'hai più, te lo predisce, ma io devo fare la comunione, se non faccio la comunione, io muoio, se non faccio la comunione sacramentale, io muoio, no, tu muori se non fai la divina guadagnia, volontà, non se non fai la comunione sacramentale, attenzione a non malinterpretare queste cose, come fanno quelli che travisano per la loro rovina, come direbbe San Paolo, non sto dicendo che non fai la guadagnia, io personalmente, difficilmente camperei un giorno, non l'ho mai fatto fino adesso, senza messa e senza comunione, ma, vediamo quello che Dio vuole, perché anche questo non è un assoluto, neanche la messa, che è la cosa più grande dell'universo, è un assoluto, perché se fosse un assoluto, quei pori martiri che sono morti, per esempio, nel secolo scorso in Russia, nella chiesa cinese, preti e vescovi, dopo sono stati incarcerati, sono stati due o tre anni senza di la messa, che dovevano fare? la divina volontà per loro era, in quel momento, offrire insieme alla sofferenza, così grande, di essere carcerati, di essere martirizzati, perseguiti, penso ingiustamente, anche quella di non poterci, la messa, che per un prete, degno di questo nome, è la cosa, quel sacrificio più grande, che Dio possa chiedere, ma quello ti chiede, questo significa, rinunciare veramente, alla tua volontà, non dar vita, anche nelle cose sante, alla propria volontà, mai, capite, questo è un fatto interiore, cioè questo, tu può darsi, che il Signore, per tutta la vita, non ti farà mancare una messa, mai, non ti farà mancare una comune quotidiana, mai, d'accordo, però bisogna vedere, se questo è quello che vuole lui per te, perché se no, qualche volta mancherà, qualche spesso mancherà, qualche tanto mancherà, anche nelle cose sante, cioè, non è che, se io sto facendo una cosa santa, questo è quello, posso avere la certezza, che fare questa cosa santa, sia la volontà di Dio, da certezza non ci può stare, bisogna vedere, allora, sentirebbero il possesso della mia, cioè, quando fossero capaci di non dar vita, anche nelle cose sante, la propria volontà, allora, sentirebbero il possesso della mia, volontà, e toccherebbero, con mano, che significa, vivere nel mio volere, tu però si attenta, non ti infastidire, delle difficoltà che fanno, ed io, a poco a poco, mi farò strada, per far capire, il vivere, nella mia volontà, allora, siamo verso la conclusione, no? ecco, il brano è finito, qualche considerazione conclusiva, le prendiamo proprio dalla conclusione di Gesù, cioè, tranquilla, comprendere bene questi concetti, non sempre è semplice, però, è necessario, provarci, bisogna far capire, cos'è il vivere, nella, divina volontà, e Gesù ha spiegato, per capirlo, dovrebbero disporsi, al più grande dei sacrifici, qual è quello di non dar vita, anche nelle cose sante, alla propria volontà, immaginate un ragazzo, che senta la vocazione, a diventare prete, se è vocazione, tu non devi essere attaccato, a questa cosa, certamente, devi fare discernimento, devi fare l'offerta, della tua vita, devi metterla a disposizione, non è che rimani in eterno, a guardare le stelle, e a fare, come gli innamorati, col petalo di rosa, mamma o non mamma, mi chiama o non mi chiama, ho la vocazione o non ho la vocazione, ce l'ho o non ce l'ho, ecco, rimani in eterno, cioè cominciamo, a muovere i tuoi passi, a muovere le tue cose, fai discernimento, parli con il delegato della diocesi, vai al seminario, come si chiama, al propedeutico, vedi, però tu me la dici, adesso io devo diventare prete, quindi mi devo comportare bene, quindi non mi devo fare dire al superiore, se faccio questa cosa, perché se poi la sga mi mando a casa, quindi questa cosa, ho questo problema, no, è meglio che non lo dico, perché se poi c'è questo problema, mi mandano via, che cos'è questo? Cos'è? Fare la volontà di Dio, entrare nella volontà di Dio, no, questo è cercare la tua volontà, anche nella cosa santa, perché guarda, sta tranquillo, che se Dio vuole che tu diventi prete, e tu ci metti la tua disponibilità, gli metti la vita a disposizione, e ti abbandoni tranquillamente al discernimento della chiesa, senza problemi, e senza, tu prete ci diventi, capito? la divina volontà non può trovare ostacoli, cioè, non stiamo parlando di pinco panco, se Dio ha un progetto, e il diretto interessato non gli pone ostacoli con la sua volontà umana, quel progetto va avanti, nonostante tutte le difficoltà di questo mondo, ma la storia dei santi è piena, sapete che il santo curato d'Ars, che è stato il padrone di uno dei più grandi preti che ha mai esistito, è stato un interno all'otto farlo diventa prete, perché con tutto l'amore che c'aveva, non erano stupido, ma non riusciva ad assimilare le cose che studiava, e il signore faceva in modo che ogni volta che andava a fare un esame, lui si ricordava tre cose su trecento, che gli chiedevano, quelle tre cose, non ci stanno problemi, San Giuseppe da Copertino era un altro, che era proprio uno zucco, per questo che è il padrone degli studenti, io lo so perché il brano che abbiamo letto è del 18 settembre, il 18 settembre è una data a me particolarmente cara, il santo del 18 settembre è San Giuseppe da Copertino, padrone degli studenti insieme a San Tommaso, sapete perché è padrone degli studenti? Perché, con tutto il rispetto per la sua santità, la data che San Giuseppe da Copertino è il santo dei voli, andava in estasi in continuazione, si vedeva una strada della Madonna sopra l'altare, veramente decollava, aveva il fenomeno mistico della lievitazione, si buttava i peli di quella strada e cominciava a riempire di baci quella strada a tempo determinato, sotto gli occhi di l'ultimo, questo è San Giuseppe da Copertino, a rischiare di non diventare prete, perché non separava niente, né di filosofia né di teologia, niente, e quando gli fecero l'esame per diventare prete, gli chiesero l'unica cosa che lui sapeva, la parabola della pecorella smarrita, se non mi ricordo male, quindi, capite? Quando una cosa Dio la vuole, si fa, però noi dobbiamo sapere che anche nelle cose sante possiamo mettere in mezzo la nostra volontà e in forme grossolane o in forme altamente raffinate, altamente raffinate. Poniamo un prete che celebra i sacramenti, come diceva i sacramenti? Bene, decentemente, con quella che Benedetto XII chiamava l'Ars Celebrandi, con devozione, con raccoglimento e tutte queste cose le fai perché? Per Gesù o per farti vedere o per atteggiarti da santo? Questo tu, il cuore lo sai? E invece fai il contrario, nel senso che non sei troppo devoto, magari ti trattieni un po' per paura del giudizio delle persone che dopo dicono ma guarda questo è un bigotto, oppure ti giudicano malamente ma questo sta a fare la sceneggiata, quando tu non hai nessuna intenzione di fare nessuna sceneggiata né di fare il bigotto, semplicemente di celebrare degnamente come richiede la presenza di Dio e come richiede un sacramento tanto o tanto importante che va celebrato con tutto l'amore e la devozione possibile, senza neanche averci il pensiero di chi mi guarda che pensa. Conta quello che pensa il celebrato, ecco, non quelli che assistono alla celebrazione o sono con celebranti o celebrante, conta quello che pensa il celebrato e se io davanti a lui mi comporto in un certo modo e agisco in un certo modo. Allora speriamo insomma che alcuni punti chiave siano chiari perché questo è un passaggio fondamentalissimo. Quindi, servo o figlio? Due volontà di cui la seconda con sforzo, fatica e attribolazione si deve con la prima o una sola volontà? Un qualche cosa da arrivare o un qualche cosa da possedere? Una ricchezza che già c'hai in atto? O un qualche cosa da conquistare? Una realtà che ti coinvolge part-time a singhiozzi, a macchia di leopardo o ti prende e ti coinvolge in tutta la tua vita? Anche nelle cose sante? Ecco. Bene, chiediamo al termine di questa puntata ancora una volta alla Divina Maria che ci aiuti a comprendere sempre più e sempre meglio questo dono. Siamo entrati nella prima delle due settimane di passione, ci prepariamo più intensamente alla Santa Pasqua che è la manifestazione del trionfo del Fiat Redimente e io vi do appuntamento la prossima settimana che andiamo regolarmente in onda per una nuova puntata. Vi do la mia benedizione Ave Maria e io vi do la mia benedizione a che vi do la mia benedizione avea la mia benedizione e pipe l'area